Le sue opere, così come nelle favole, sembrano autentica letteratura, capaci di far sognare l'osservatore. Buonasera, sono molto emozionata, come del resto credo che abbiano emozionato le mie tele, il mio disegno a lei, perché ho capito che lei è molto critico e severo. Voglio semplicemente dire che la mia pittura non è fatta né con pennelli né con matite, ma con il corpo, io uso le mani e il mio corpo, quindi la nudità di un corpo non è certo la nudità dell'anima, io uso solo il mio corpo nuda, le mie mani nude e questo la ringrazio perché lei che ha capito ha voluto scegliere la mia tela come suo fratello. quando mi ha detto, la sua foto è un francobollo, ma io volevo che, non volevo la mia immagine, volevo il mio disegno. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti